interagisce vuku ciao gattino che carino oh mio di miau miau si no 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 il gattino è morto il gatto ragazzi senti li mi stanno chiamando perchè sono caduto no no poverino guarda poverino piacere si è fatto male guarda zoppica povero gattino no lo lecchiamo lol lol come quegli affari si apre vedete di quanto io urlo e c'è un occhio dentro mamma mia quanto urlo non avete idea apri servature ah ah ci sono aperti davvero ci sono aperti davvero ci sono aperti davvero non li volevo vedere sta sfumato in un gioco horror com'è sta storia non li volevo vedere assolutamente no no beh carino no ho ancora sti occhi ma guarda ma perchè perchè cristo che incubo non dormo più che fai amico vedi spacca tutto spacca tutto spacca tutto spacca bravissimo adesso lanciami la finestra la finestra il gattino corri oh madonna città città ci hanno sentito no datene andare attenta di me datene no no corri corri gattina ah vorrei lasciarmi qua eh non lo ricorderò ah proprio così cioè uccidiamo la porta mi sembra un'ottima tecnica per entrare wow sto male se non mi fanno vedere cosa c'è fuori poi mettete di ricoda urlo voglio assolutamente vedere cosa c'è fuori mi fanno veramente vedere cosa c'è fuori davvero mi fanno vedere davvero mi fanno vedere cosa c'è fuori impazzisco impazzisco no io no no raga no ho no 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 Grazie a tutti.